Una confezione di pere, degli gnocchi, banane, una Pepsi, una cassone, due bechamel, una confezione di lind assortito, riso, clementine, finocchio, un attimo e vi do. Allora, vi faccio vedere i cornetti, due confezioni, poi un Ferrero Rocher e pane, poi un torrone alle mandarle, dei dolcetti e vino rosso. Poi, avevo preso il torrone wow, un attimo e vi do. Tagliamonte pelata, sottilette, latte, due passate della torrente, latte parmalat puro blu, una birra Poretti, poi qui dei bitter, una bottiglia di olio di cecco e taralli. Poi abbiamo preso le mozzarella in taglozza, banate, congelate e i cuoricini di casciofo. Poi abbiamo preso due drovole, un attimo e i prosciuttini tipo tenironi, due confezioni, salmone norvegese, poi caciolta mista, un pesto di fungo coccini, questi sono gli hamburger, uno si è schiacciato, carne macinata e un po' di affettati. per quanto riguarda la spesa, abbiamo preso 6 uova, panini, un pezzo di pane, un po' di affettati, allora abbiamo preso il cotto, due baschette, anzi tre, poi abbiamo preso il crudo e abbiamo preso l'arrosto di lacchino, salame ungherese, poi abbiamo preso il capopollo, abbiamo preso le fettine di carne, queste sono quella scottona, buonissima, poi funghi, champignon, parmigiano, questo è per il bagno, il datto 5 per il water, banane, mele, poi abbiamo preso una confezione di mozzarella, un ananas a fette, melanzana, mele, un attimo sono da voi, ritornando a noi, abbiamo preso i panini che si fa per l'hamburger, pan grattato, zucchero di canna, pizzette piccoline margherita, poi abbiamo preso le zucchine, la focaccia, le mandorle sgusciate, abbiamo preso il preparato di pesce, no, questo è il gratin merluzzo, patate, un altro merluzzo, tonno, poi abbiamo preso i mandaranci, poi una besciamella grande, panna, poi abbiamo preso una bottiglia di vino rosso e un'altra bottiglia di vino rosso, poi una nassosa e infine una birretta, questo è quanto, alla prossima, ciao ragazzi. Allora, abbiamo preso la focaccia del Todis, poi abbiamo preso i filetti di acciughe, banane, capocollo, degli hamburger, petto di pollo, poi abbiamo preso due provole, due buste di latte perna, due passate e una birra. Abbiamo preso i mandaranci, pomodorini, limoni, mele e l'uva per quanto riguarda la frutta, le miele, altri mandaranci, questa è la spesa del MD, farina, una gassosa, tre lattine di pepsi, i panini per gli hamburger, prosciutto cotto, se lo trovate prendetemi che è buonissimo, poi una confezione di pizzette congelate, margherita, piccoline, patate congelate a spicchi e vabbè, siamo passati a prendere il caffè al ginseng. Un attimo, per quanto riguarda le cose per casa, abbiamo preso due intimo alla menta, poi il cura lavastoviglie per pulire la lavastoviglie, il colluttorio della Genjimed, sapete che io lo acquisto sempre, poi abbiamo preso il dolorante per casa, della seta blu alla vaniglia, una confezione di carta igienica da 4, sacchetti per la spazzatura, due tacchi di torainoli, uno e due, e un pacchetto di assorventi. Questo è quanto alla prossima. Ciao ragazze. Ciao ragazze, nuovo video per la spesa. Abbiamo preso le fettuccine all'uovo, poi abbiamo preso dei justel, tre pacchettini, una ricotta della Granarolo, una confezione di caffè Kimbo da 4, un pan bauletto ai cereali, una passata della Cirio, latte, lenticchie della vaffrutta, un bracchetto dolce, due coche, poi abbiamo preso la pasta della Di Cecco, queste sono le zitta tagliate, poi una confezione di birrette. Questo è quanto al prossimo. Ciao. Ora la spesa al depo, abbiamo preso i funghi misti, poccini congelati, e quelli misti. alla Pugliese, questi sono alla Pugliese. Ho un broccoli e salsicce, e specchi. Latte, poi il lauricchio, un pezzo di pane, un pezzettino di pane, e per la passoviglie, il cura alla passoviglie. Sono le patate congelate della McQueen, delle crementine, una bottiglia di olio per sfriggere, poi abbiamo preso il salmone marveggese, una mortadella della Galbani, un pacco di pasta di Circo, le penne rigate, una confezione di tonno mare aperto, ne sono tre, poi una pelata la Rosina a datterino, un'altra confezione di latte, due coche, un'altra pelata del Monte, delle melanzane sott'olio e delle banane. Questo è quanto, alla prossima. Ciao ragazzi. 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 Grazie a tutti